Crese 2022, over 35, è iniziato il match che mette di fronte Moto Charlie, squadra in divisa bianca, in possesso palla ora, contro Termogas Sistemi. Sta trovato, controlla e calcia col sinistro, rimpallato, rischia e palla che non è entrata, secondo Royaz, un gran riflesso di Simic, subito. Parte il destro, forte, da parte di Milenkovic, allontanato, poi Radosavljevic, col destro, forte, in corsa, diagonale, che non lascia scampo ad Apollonio. Avanti, Termogas Sistemi con il gol di Ivan Radosavljevic al minuto 6, nel primo tempo. Ancora Geroni, movimento profondo di Priscindaro, Geroni sceglie la traccia interna per testa, buono, il pallone per Priscindaro che sposta, vuole il mancino, tutto chiuso. Giannuzzi arriva in corsa e calcia, Simic non si tuffa ma deve comunque allungare in rimessa laterale. Confermando il metro, quanto abbiamo detto prima, punizione già battuta, sua presa, occhi a bande, il zona tiro allargato su testa, diagonale di testa che frutta il gol dell'1-1. Bella scelta da parte di Moto Charlie sulla modalità di battuta di questo calcio di punizione, mentre Termogas dormiva un po'. Accelera, Bektic, 1-2 che si chiude, Apollonio lascia lì, poi ancora doppio rimpallo, si salva in qualche modo, Moto Charlie l'aveva preparata molto bene, Termogas. Priscindaro non può tenere in campo questo pallone. Paikic, Radosavlievic prova ad andare via col tunnel, non passa su Priscindaro, prova a fermarlo col fallo tattico. Priscindaro resiste e calcia in porta, Simic mette in calcio d'angolo. Tra Moto Charlie e Termogas Sistemi, 1-1 risultato nel primo tempo, reti di Radosavlievic e testa, si riparte subito con un tentativo verso la porta da parte di Zoran Paikic. Per Moto Charlie, ma seguiamo l'attacco di Termogas Sistemi con Bektic, uno dei migliori nel primo tempo. Radosavlievic rimette avanti la testa a Termogas Sistemi grazie al secondo gol, doppietta per Radosavlievic che riceve la sponda sulla sua rimessa da parte di Bektic e calcia da lontano. La Royals ha fischiato Royals, parte Toffoli che va forte col destro, tocca Simic ma non basta. Traiettoria secca, centrale ma Simic forse non la vede partire benissimo e tutto di nuovo in paretta. Continua ad attaccare in modo rabbioso Moto Charlie. Testa, palla di ritorno per Dentini, zona cross, morbido dentro, cercare Priscindaro col destro, Murato Dazekovic. Testa al volo e questo è un gran gol, coefficiente di difficoltà molto alto per il mancino di prima intenzione di Testa che firma doppietta personale e 3-2 vantaggio, il primo dentro la partita di Moto Charlie. Priscindaro per Toffoli, raddoppiato, chiuso nel sandwich tra Bektic e Milenkovic, la palla non è uscita secondo Royals. Gran numero qui di Bektic che fa secco Priscindaro, poi calcia col destro, è un gol bellissimo con la punta, ruba il tempo ad Apollonio ma la cosa migliore l'ha fatta prima andando via con il tunnel. Tutto di nuovo in parità, 3-3, gran gol di Alit Bektic. Milenkovic, scende Radosavlievic, si trovano bene i giocatori di termogassistemi quando ci sono spazi da attaccare, converge Radosavlievic, calcia col destro, sorpreso Apollonio, forse una deviazione, sicuramente è il nuovo vantaggio, termogassistemi con la tripletta di Ivan Radosavlievic, 4-3. Ricordiamo a seguire il match che trasmetteremo sempre su questa pagina per la Crese League, ora attenzione a testa, la zampata di testa che risponde alla tripletta di Radosavlievic. Tric anche per l'attaccante di Moto Charlie, ancora parità, 4-4. Alza la pressione termogassistemi, si abbassa Toffoli, riceve un po' di spazio per Dentini, Toffoli va da solo, glielo lascia lo spazio Dentini, Toffoli insiste, Priscindaro, zona cross, cerca testa! E arriva il quarto gol personale di testa, ora sì, è nuovo vantaggio, Moto Charlie, 5-4. Portapalla Paikic, incontro viene Radosavlievic, non sa chi scegliere, Paikic ora prova a raggiungere Peric, non ci riesce, fischia tre volte, Royals vince. Moto Charlie, una gara bellissima, con continui capovolgimenti di fronte e nel risultato alla fine la palma del migliore in campo, se la porta a casa probabilmente Nicola Spatrizio Testa con i suoi quattro gol che permettono a Moto Charlie di vincere insieme al punto. Il primo gol firmato da Lorenzo Toffoli all'inizio del secondo tempo, non basta a termogassistemi la tripletta di Ivan Radosavlievic. Il gol di Alit Bektic, bellissimo, peraltro, finisce così, 5-4 per Moto Charlie su termogassistemi. Tra poco il match della Crese League tra Home, Sapore di Casa e Officine Barnobi, sempre in diretta qui sulla pagina Facebook Crese Cup, title partner di questa edizione, Zanutta, Galtri, sponsor, concessionaria Trieste Auto, Gomme Marcello Revisioni, Farmacia Picciola, La Croce Bianca, Heineken e Macelleria da Remo Frutta e Verdura.